Non sapete che gioia qualche giorno fa presentare qui a Parigi le traduzioni francesi di questi due libri di autori italiani Il dolore crea l'inverno di Matteo Porru, un romanzo che è una metafora, un'allegoria, quasi una favola ambientato in un luogo gelido, desolato e coperto di neve con un protagonista che a un certo punto deve fare i conti con il suo passato E poi è quello che ti meriti di Barbara Frandino, un romanzo che punta una telecamera su due protagonisti che attraversano una grave crisi matrimoniale Un ancoraggio fortissimo nella realtà, nella vita quotidiana, nei gesti, nei dettagli, nelle parole e nei silenzi Per indagare tutto ciò che può tremare e crollare quando non riconosciamo più la persona con cui abbiamo vissuto per anni